Ci prendiamo un caffè già che siamo qui? Ma sì, un bel boccaccino freddo. Attenzione gente, questa è una rapina! Stragiatevi a terra e nessuno ci farà del male! Seda! Oh, cavolo, tutto bene tesoro? Tutto bene, tutto bene. Allora, tu, due boccaccini freddi. Forza, diamo! Muoversi, muoversi! Due boccaccini freddi! Con la panna! Con la panna! Ce la vuoi la panna sul tuo, tesoro? No, grazie. Niente panna sul suo? Niente panna ricevuto! Ma questi sono ipocalorici? Sono ipocalorici o no? Io ho creduto di sì! Ok, tesoro, sono ipocalorici. Prendiamone un po'? Come li vuoi? Alla crema o al cioccolato? Crema, al cioccolato? No, no, quelli di... Questo qua? Questo di lato? Eh, sì. Tesoro! Quello va bene, va bene. Allora, ehi, che nessuno si segue, eh! Perché siamo criminali disperati, capito? Siamo pronti a tutto! E io uccido tutti! Tesoro, i caffè! Ah, c'è giusto! Grazie tanto, eh! Si può sapere che stai facendo là dentro? Beh, che ne dici? Vrruruam, vrruam! Saresti Elvis in motocicletta? Sono il motociclista volante. Mi piace come mi sta sul di dietro. Ah, ah, ah! 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 Tesoro? Dov'è la mia macchina? Perciò è desktop. Evviva, ora puoi dovere il football! Qualunque cosa succeda, sappi che ti amo. Oh, ti amo anche io. Andiamoci sotto. Ok. Via, 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 via! Ah! Coprimi! Oh, oh, oh! Porca miseria! Questo tizio è carico di grana. Ciao! Guarda che bel mucchietto! Possiamo dargli una pistolata in testa? Ehi, tu non ridere! Non è il caso! Non ti ci azzardare nemmeno! Ciao! Se no, svenisci quello che stiamo facendo, ok? Esatto! Ehi, che ne dici? Perfetto, prosegui! Che cos'è? Niente! Non fare niente, stupido! Altrimenti, potreste pagare il massimo prezzo! Ehi, che cos'è? Prisore, la pianti con queste stronzate? Ok? Prisore, la pianti con queste stronzate? Prisore, non sai che ti piace parlare così? È buffissimo! È buffissimo!